Benvenuti nel complesso Maruggi. Oggi siamo qui perché vogliamo presentarvi in vendita un'abitazione qui alle mie spalle, molto ampia e luminosa, disposta su più livelli, con degli spazi esterni veramente ampi e gradevoli. Come vedete questo è l'ingresso principale qui alle mie spalle, una bella vetrata d'ingresso. Il giardino prosegue da questa parte con un accesso verso il salone e altri spazi che circondano la casa. La casa è molto grande come vi dicevo e vi invito a venire a vederla. Un ingresso ampio e molto luminoso. Come vedete gli spazi sono tutti comunicanti. Qui alle mie spalle c'è una cucina abitabile con un accesso verso l'esterno e una zona lavanderia molto pratica e comoda riservata. Da quest'altra parte invece si accede verso il soggiorno. Come vedete gli spazi sono davvero grandi, tutti comunicanti da questa parte come abbiamo detto la cucina. Qui ci disponiamo su due livelli per dare maggiore riservatezza a questa parte. Un ampio salone con un bel cammino, un'ampia vetrata da questa parte che dà luce a tutto l'ambiente. La scala da questa parte oltre che al bagno conduce alla taternetta. Mentre la scala qui alle mie spalle porta al livello superiore dove troviamo due camerette, un bagno, una camera matrimoniale con bagno in camera e uno spazio veramente grande dove potete disporre il vostro cabina armadio o anche passare il vostro tempo. Venite a vedere questa casa veramente interessante.